Marche Multiservizi informa che, in occasione della giornata della terra, sabato 24 aprile, i centri di raccolta differenziata avranno un orario più ampio. Cerca nel sito www.gruppomarchemultiservizi.it l'orario del centro di raccolta più vicino a te. A chi conferirà carta, plastica, vetro, ingombranti, verrà consegnato un simpatico maggio. Ti aspettiamo! Grazie a tutti!